Questa azienda ci ha mostrato un bellissimo esempio di come gli argomenti che si studiano sui libri e si possono trasportare nel mondo del lavoro cioè aiutare le persone con nuovi prodotti con nuove tecnologie ma anche soprattutto far bene all'ambiente perché il prodotto che fornisce alla popolazione questa azienda è del tutto sostenibile. Non mi aspettavo di trovare una realtà del genere nel territorio e sono stato molto sorpreso come sono stato sorpreso io credo siano stati anche i ragazzi e questo l'ho visto dall'attenzione che hanno posto durante la visita. Mi piacerebbe molto lavorare in Materbiotech perché sarebbe la concredizzazione del sogno di uno studente per ciò vedere applicato ciò che studia, soprattutto perché è un settore che secondo me ha ampie possibilità e potenzialità. Come Materbiotech vogliamo dare un messaggio chiaro alle nuove generazioni e far capire loro che innovare è possibile, che prendere prodotti esistenti sul mercato e renderli completamente diversi è possibile e che mettendosi in gioco e pensando il prodotto, pensando l'industria in maniera completamente diversa è possibile creare innovazione, ma creare innovazione all'interno di un circuito virtuoso e sostenibile.